Un pareggio che muove la classifica e non lascia segni sulla pelle di nessuno, un punto a testa per chiudere il 2015 quantomeno con un mezzo sorriso e rimandare le pretese d'alta classifica al nuovo anno. Reggio Calabria e Due Torri sparano a salva al granillo, ma lo spettacolo sul rettangolo di Gio Camaranto non manca. Al contrario di quanto si potesse pensare, è la formazione ospite a fare la partita. Siciliani più attendisti di solito, meno difensivi invece contro i ragazzi di Cozza. E proprio Due Torri, che di solito fa dalle retroguardi alla propria arma, a procurare i brividi più profondi in attacco, soprattutto nel primo tempo. Al ventiquattresimo il palo a negare la gioia del gol ai siciliani, mentre dieci minuti dopo solo la mira sbagliata di un soffio lascia invariato il risultato. Meglio la regina nella ripresa anche perché il Due Torri torna in campo, mettendo in pratica quello che più gli riesce meglio, tirare il rem in barca, chiudersi al riccio ed eventualmente ripartire. Gli Amaranto sprecano all'ottantatraesimo l'unica buona chance concessa dagli ospiti, ma Forgione non è preciso e spara sopra la traversa. Graduatoria invariata per le due formazioni, con il Due Torri che resta davanti alla regina.